Nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV, siamo in un luogo molto caro, il nostro Beppe Marconi quante cose da giovane venivi a fare Ah eh sì, quando ero ragazzo sì, però al di là della ferrovia perché di qua non c'era il cavalcavia allora Cavalcavi tu Comunque no, non è che ho perso l'abitudine Allora, siamo nella strada che da Pratantico va verso Chiani E piove E piove, ma noi non ci ferma nulla, anzi meglio che piova perché anche se la situazione non è come quella che nel gruppo 6 di Arezzo 6 è stata documentata con delle foto il giorno della Befana Che cosa succede? C'è un cantiere qui del consorzio, che ora come si chiama perché questi consorzi cambiano nome prima di essere aggiornati Si chiama Consorzio 2 Alto Valdarno Però è sempre il consorzio, quello che si chiamava Bonifica Valdichiana Dei famosa, tassa sui posti eccetera C'è questo cartello dei lavori Consegna lavori, non si sa, non c'è la data Adesso ve lo facciamo vedere Consegna lavori, non si sa Tempo contrattuale 120 giorni naturali e consecutivi Da quando? Non si capisce Data ultimazione dei lavori, non c'è scritto Quindi non si sa se è un cantiere che è ancora attivo, non è attivo Certo sembra lasciato, giusto per usare così una parola che ci sta bene È tutto lasciato un po' in tronco perché è pieno di tronchi qui Che ridi Il problema è che si allaga la strada, dicono gli automobilisti Che è una piccola strada, però è molto trafficata, abbastanza la usa Sì, è molto trafficata questa strada E cosa succede? Che da quando c'è questo cantiere e questi lavori Qua basta che piova un po' arriva tutto il fango sulla strada Oltre che l'acqua, pezzi di legno È per forza perché il sottopasso è completamente istruito da tronchi d'albero, ramaglie lasciate qui Che poi la corrente ha accumulato e quindi di conseguenza ha chiuso il sottopasso E l'acqua deborda di sopra la strada e va dalla parte di là Dove ci sono altre problematiche? Dalla parte di là Perché vedo che ci sono tubi dell'acqua volanti che sono stati liberati dalla piana dell'acqua Perché sicuramente in quella curva batte l'acqua Quindi ha tolto l'agine, non essendo certamente niente di protezione E quindi di conseguenza ha creato questo Poi vedo anche a valle, giù ci sono altri tubi scoperti Sembrano lavori fatti con piedi, ma insomma Ma forse non sono finiti Forse non sono finiti No, il problema è se non sono finiti Ma in sicurezza la strada è messa Perché ho visto dalle foto che l'acqua passa ed è borda di sopra Quindi di conseguenza diventa un pericolo per chi passa per questa strada E poi se ti tirano indietro magari l'acqua ti può tirare qualche tronco Può creare problematiche maggiori alle macchine Magari uno se l'altro va davanti di notte e si prende un tronco non è che fa bene No, non è molto simpatico E insomma, speriamo che il consorzio metta mano a questa situazione Quanto meno come dicevi per la messa in sicurezza Oggi non piave forte, quindi ancora questo problema non si è creato Ma le foto dimostrano che il problema si crea Comunque qualche pozza abbastanza grossa già a bordo della strada ci può essere Perché non c'è lo scolo Ma questi tubi secondo te che acqua trasportano? Sì, ma dell'acqua questi Perché qui vicino c'è il depuratore Quindi insomma, speriamo che il consorzio che è stato tra virgolette odiato Secondo me anche esageratamente Perché è stata fatta una polemica anche secondo me a volte anche un po' esagerata Che a volte si attaccano le cose più piccole quando gli spreghi forse sono altri Cioè se facesse, in qualche modo, come hanno fatto altri lavori, li portano in fondo Nel senso, qualcuno li deve pagare perché la competenza non è della provincia Qualcuno dovrà pure essere Siccome i contatini ci sono più che puliscono i fossi, qualcuno li deve pulire Qualcosa bisogna contribuire, non ci dovrà fare Capo espiatorio non ci piacciono, questo ce l'abbiamo No, no, no Quindi Tamburini era diventato un po' capo espiatorio Lui era capo di un ente creato dalla regione toscana Quindi di conseguenza non poteva fare altro che rispettare quelle che sono le direttive E soprattutto sono direttive anche di legge Quindi non ci entra a fare Perché infatti penso che coloro i quali hanno fatto ricorso alle cartelle Qualcuno in primo grado ha vinto Ma poi in secondo grado perdono regolarmente Perché la legge c'è O si modifica la legge o altrimenti non ci entra a fare Bisogna pagare Bene, ci rivediamo domani E da altre parti, sempre con SSGZTV Ciao Ciao